Grazie a tutti. I quaderni radicali online e siamo qui adesso con Antonio Marulo che è il capo redattore e intanto gli chiediamo un'impressione su come è andata questo evento, questo lancio e la partecipazione come mi sembra che sia stata. Diciamo che comincia adesso la mera sfida del Mese di Governo di Radicali, è un numero zero, un numero sperimentale in vista di una pubblicazione che avrà cadenza ordinaria da settembre, di questo nuovo strumento che si pone a metà tra l'agenzia radicale che è l'agenzia stampa sempre prodotta dalla struzione Mese di Governo di Radicali e la minestrale cartacea che invece viene prodotta da 35 anni. Cercheremo di andare incontro alle esigenze del web e quindi anche del tipo di informazione, di fruizione dell'informazione della pubblicazione che si fa sul web, quindi contenuti più stringati, meno parole, maggiore interattività nei contenuti. In vista poi di un'applicazione, di una piattaforma dock che stiamo preparando e predisponendo per iPad, dove appunto il Mese di Quaderni Radicali nei numeri successivi potrà essere fruibile attraverso dei meccanismi che più sono consoni alla lettura su web. Antonio, ti vogliamo fare una domanda, visto che tu sei in qualche modo un animatore del web a fini informativi. Il web ancora in Italia purtroppo, anche soprattutto da un punto di vista strumentale, siamo ancora molto arretrati rispetto al resto d'Europa, sia per la diffusione dell'alta banda, della larga banda, eccetera. Però anche per quanto riguarda l'informazione politica, il web, diciamo, più che i giornali web, ancora siamo in una fase anche l'iniziale. Probabilmente anche i partiti ancora non hanno un controllo trasversale, noi sappiamo, con i vari lobby sui giornali e la carta stampata. Ecco, pensi che ci sia il pericolo di questo ampliamento di potere, di queste lobby, appunto, della carta stampata, conosciamo benissimo Senza Frenumi, anche sul web? Beh, questo Senza Frenumi è già accaduto in parte, comunque le informazioni, le grandi testate giornalistiche sono in prima linea sul web, che sono quelle anche più seguiti. Tra l'altro, se si scorrono le immagini, le prime pagine, i quotidiani, tra i pubblici, la Corriere della Sera, la stampa, si vede che spesso le notizie più seguite, però, rossalmente, sono quelle che servono a fare contatti, anche a livello molto basso, le donnine nude, per carità, ecco, nessuno vuol fare i moralisti per me, ma, forse, però, comunque, in giornali autorevoli, come il Corriere della Sera, magari, ci si aspetterebbe un altro tipo di informazione, come accade, magari, sulla BBC o su New York Times. Il controllo, di fatto, in parte, è giocente. Il pericolo c'è, anche se io sono un po' scettico sulla capacità, comunque, effettivamente, di bloccare le informazioni su web e su internet, è un po' come mettere le braghe all'acqua, quindi, la vedo un po' complicata, anche se, comunque, senza dubbio ci si sta lavorando, c'è una gran fetta pubblicitaria, comunque, di denaro che circola e che deve essere accaparata e vuole essere accaparata dai grandi media, e quindi, c'è questo pericolo. Però, io, da questo punto di vista, sono fiducioso sulle capacità del web, a meno che non lo scurino come le dittature, di poter, comunque, avere i suoi canali di diffusione. E su questo che noi contiamo, perché siamo una nicchia, noi, di quaderni radicali, di agenzia radicale, che, mentre nella stampa cartacea, nella distribuzione abbiamo difficoltà, sia per problemi economici, ma anche per il canale distributivo, che spesso diventa un ostacolo per arrivare al lettore, col web, invece, è molto più facile avere un'utenza libera, e quindi, svolgere anche, sfruttare anche il tantammo che si crea sotto traccia, proprio per arrivare dove, magari, con altri strumenti necessari. Per reggere il mercato, i grandi giornali, basta scorrere la colonna centrale o la terza colonna delle news, si va da Corona a Belen, ad altri, si va alla Pippa Middleton, che sono, praticamente, le notizie attraverso le quali i grandi giornali cercano di fare pubblicità. Poi, ecco, i contenuti, che sono culturali e politici, restano al palo e spesso non sono altro, come fanno altri d'estate, un po' più in colla delle agenzie, e niente più. E' più un veicolo, ripropongono le notizie che stampano, invece, poi, sui quotidiani. Questo è il web oggi in Italia, che, comunque, dal punto di vista dell'informazione, ancora la pre-storia. Perfetto, una domanda di servizio. Per sostenere, abbiamo sentito, il mensile di Quaderni Radicali, bisogna, semplicemente, abbonarsi. Sì. E come si deve fare, sinteticamente, per il pubblico di TV Radicale? Bisogna collegarsi al sito www.quaderniradicalionline.it oppure accedere allo stesso, allo stesso, allo stesso, allo stesso homepage, attraverso agenzieradicale.com Seguire le indicazioni per scaricare questo numero zero, è gratuito, quindi, anche per dare visione a tutti del nuovo prodotto. Poi, dai numeri successivi, ci sarà la possibilità di acquistare il singolo numero a 3 euro, mediante il processo di procedura di carta di credito, o il circuito Banca Sembla, oppure, attraverso un bonibico, se qualcuno mi vuole, diciamo, diffida ancora degli strumenti della carta di credito. Naturalmente, è più conveniente abbonarsi, 25 euro, 11 numeri all'anno, fruibili da settembre, dove partirà il numero uno. Perfetto. TV Radicale, ringrazio Antonio Marolo. Grazie. Siamo con Anna Maggiar Barducci, collaboratrice del Quaderni Radicale Mese, mensile di Quaderni Radicali, anche lei è presente oggi alla presentazione di questo nuovo spazio informativo di Area Radicale, e le chiediamo intanto qualche impressione su questa presentazione, come ne sembra sia andata. Nel mese c'è un appuntamento sull'Associazione Arabi Democratici Liberali, che abbiamo fondato io e Giuseppe Riffa già quasi cinque anni fa. Si trovano all'interno dei testi del 2008, che parlavano di quello che sarebbe poi accaduto negli ultimi mesi, ovvero di rivoluzione, del mondo arabo, la cosiddetta primavera araba. Parlavamo proprio di questo. I movimenti di tutto il Medio Oriente, di tutto il Nord Africa, che si volevano ribellare contro le dittature dei loro stessi paesi. Tre anni fa nessuno ci credeva, nessuno ci prendeva in giro, oggigiorno, invece vengono a cercarci dicendo che avevano altre ragioni. C'era un malessere, era prevedibile, che la situazione in Tunisia, forse non si sapeva che proprio quel momento sarebbe potuto rispettare una rivoluzione, ma le persone erano stante. E così come in Egitto, le persone erano stante della dittatura, che mi davano i diritti, né tantomeno la possibilità, i diritti fondamentali, quindi di essere curati in un ospedale. Quindi molti mi dicevano che preferisco morire fuori dall'ospedale, di entrare in questo ospedale, perché non so come cureranno, non so se potrò permettermi di essere curati. La strada sarà lunga, ancora non si sa quale sarà il fine, come andrà a finire, però sicuramente l'Occidente non può abbandonare questo momento, la primavera araba, invece sembra che lo abbia già fatto. Basta guardare quello che sta accadendo in Siria, l'Occidente sembra essersi scordato, perché anche lì, i cristiani stanno scordati. La strada sarà lunga, anche lì, i cristiani stanno scordato,